Kira Meyer è una bellissima ragazza russa di 24 anni d'età e pensate che sarebbe stata fermata senza patente e la ragazza in questione avrebbe offerto sesso a tre ai poliziotti. La modella però famosa su Instagram, dove conta un sacco di followers, pensate che sarebbe stata da prima arrestata e poi condannata. Si sarebbe beccata infatti la bellezza di 18 mesi di caccere, di reclusione in caccere. Avrebbe guidato l'automobile senza avere la patente e le sarebbe stata ritirata per un altro incidente. Dopo essere stata fermata avrebbe cercato di resistere ai poliziotti colpendono di loro. Poi si sarebbe offerta in un tentativo di cercare di essere utile per se stessa. avrebbe offerto sesso a tre, ma ovviamente i poliziotti non si sarebbero lasciati andare. Grazie di mio cuore, la ragazza faccio sapere che è bellissima. Un salutone, iscrivetevi al prossimo video da narratore italiano.